C'è un dettaglio che emerge dall'ultimo post di Fedez e che non può passare in ossia. Un dettaglio che racconta l'intenzione del rapper di mettere al mondo un terzo figlio insieme alla moglie Chiara Ferragni, con cui però le cose sono andate diversamente. Oggi la coppia è separata. Un dettaglio che racconta l'intenzione del rapper lo si capisce da una lista di desideri che il cantante aveva scritto nel 2022 e che rende pubblica solamente diversi gli obiettivi, tra cui appunto quello di possedere un altro. Nel pomeriggio di ieri Fedez ha condiviso alcuni scatti relativi al momento più difficile della sua vita, la battaglia contro il tumore vissuto. Proprio in quell'occasione l'artista aveva compilato una lista di buoni propositi da portare a termine una volta che l'incubo fosse finito. Tra questi, quello di avere un altro bambino dopo Leone e Vittoria, che oggi hanno sei e tre anni. Un desiderio che poi non è stato portato a termine poiché gli anni successivi della sua vita sarebbero stati sentimentalmente compilato. La prima crisi pubblica tra Fedez e Chiara è stata infatti quella avvenuta già a febbraio 2023. Quello che è accaduto ce lo ricordiamo tutti. Lei era conduttrice. Lui ospite. Lei gli aveva chiesto di mantenersi discreto. Lui invece salì sul palco stampando un bacio in bocca a Rosa Chemical. Artista in gara da allora i due avevano impiegato molto a riprendere una routine serena nel loro rapporto, almeno a giudicare da quanto raccontato su poi però una nuova bomba ha messo a dura prova la solidità della relazione. Il caso Balocco, con Chiara multata per un milione di euro dall'antitrust per promozione ingannevole di Benef. Insomma, il desiderio di avere un altro figlio per Federico non si almeno per ora. E gli altri desideri? Erano i seguenti. Concerto a giugno in Duomo, vacanza a Las Vegas, San Siro da solo, vincere Sanremo, Eurovision. I primi due sono stati messi a segno. Ora non resta che lavorare per raggiungere.